È un rapporto fra i due, chiamiamolo ossessivo, un rapporto farmeticante. Spesso non si ha idea di dove i due possano andare a parare, sia da un punto di vista drammaturgico, ma anche da un punto di vista di struttura della storia, ma anche da un punto di vista proprio intimo, dell'intimità dei personaggi, delle loro coscienze, i loro stati d'animo, sono stati d'animo continuamente tesi a. Difatti la parte centrale dello spettacolo è tutta costruita intorno a questo gioco grottesco che è un ricordo, che è un gioco che i due affrontano, una forza di sfida, affinché si possa ricordare qualcosa. Vai! Mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo! Che te ne vuoi? Che te ne vuoi te? Mi ricordo questa vista! È a me vista! Una picchiazza! La scelta della lingua, questo palermitano vero... Vero, forte, violento, anche poetico. Semplicemente così come in I Romini, che è il primo lavoro sull'impossibilità, è semplicemente un divertissima dell'autore. che papà... E si, perché magari uno può immaginare che questo sia un fatto che è accaduto, che potrebbe accadere che riguarda soltanto una certa categoria sociale o un fatto che si può racchiudere ad una zona territoriale ben definita, ma è appunto un dolere giocare su quello che potrebbe tranquillizzare lo spettatore, ma che non è altro che una lingua universale, è una delle tantissime lingue con le quali si potrebbe andare a trattare l'argomento che abbiamo appunto fatto con la cerimonia. Diciamo che è stato uno spettacolo anche faticoso da un punto di vista proprio della messa in scena. Ci siamo inizialmente, una volta che era costruito il testo, interrogati su quelle che erano le tematiche che l'autore voleva che venissero fuori e poi in queste tematiche si sono discusse affinché venissero comprese. Qui è stata importante anche la partecipazione di Francesco Di Fiore che ha poi costruito su questo impianto le musiche di scena che sono importanti all'interno dello spettacolo, sono una base significante necessaria del fatto scenico. Che bella musica! Mi piace! Bellissima! Che musica è? La nostra! E tutte le ore? E quando fu il cantesimo? Oh, mi ricordo! Bellissima! Ogni anno, fu il sesso mese, non ho il sesso io e lui! L'uno! L'uno, brava, perdiamo sempre la stessa musica! Mi piace! E ha la nostra musica che mi aiuta a fare nel recordare! Minchione è troppo bellissima! L'unico in cui si ride, si sorride, si pensa, si piange, si riflette sul perché si ride, il perché si piange. Il sottigno. Diciamo il sottigno, ci sono delle sensazioni chiaramente che abbracciano a 360 gradi tutte le tipologie di sensazioni. come del resto, la vita, la vita non è un'ipoca, non c'è il riso, il pianto, sherry. C'è una curiosità che si produsisce, si produsisce con uno stato d'animo subito che è andato imbaltato, si trasforma in aggressività. E' una cosa... E' uno spettacolo. Dunque noi non abbiamo più altro da dire. Ma se la cosa vi aggrada, bene! Se non vi aggrada, bene! 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 e e Sì Vi